Shalom, shalom, shalom. Miei saluti alla Casa d'Israele, coloro che cercano con sincerità la verità. Miei saluti, shalom. E prima di iniziare questa lezione vorrei dare lodi e tutto il dovuto, i ringraziamenti al Padre Onnipotente, Yahawa, nel nome di suo figlio, Yahawa Shai. E vorrei dare i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità che conosco oggi. Questa lezione sarà basata sui santi. Ok, infatti, la pagina che è qui, che vedete, è la Wikipedia, che oggi parleremo un po' della storia della compagnia di Gesù, cosiddetti Gesuiti, ok? Ed è importante che conosciate chi sono, questo gruppo qua, chi sono. Ok, iniziamo a leggere, quindi perciò se andate sulla Wikipedia, ok, qui c'è un po' della loro storia. Ok, tirerò fuori un po' di punti da qui, ok? Per poi elaborare. Inizio leggendo. La compagnia di Gesù, in latino, società di Gesù, ok? Gesù perché prima del latino c'era la lingua greca, ok? E prima della lingua greca c'erano altre lingue, ok? C'era l'ebraico antico, ok? Perciò il suo nome, il nome del figlio, del padre, non è Gesù, ok? Infatti i greci adoravano dei dei diversi e avevano un dei principale che è Zeus, ok? Questo sarà su un'altra lezione. È da là che sono venuti con questo nome Gesù. E Gesù, se guardate il significato della lingua greca, vuol dire hal a Zeus, ok? Perciò da questa parola, Gesù, sono riusciti a portarci ad avere Gesù, ok? Quindi questo non è proprio il discorso di oggi, ma ho voluto tirarvi fuori questo punto, come mi sento guidato dallo Spirito. Poi farei un'altra lezione su questo. La compagnia di Gesù, in latino Societas Jesus, è un istituto religioso maschile, il diritto pontificio, ok? Il diritto pontificio ha a che fare con il Vaticano, il Papa, ok? I membri di questo ordine di chierici regolari detti Gesuiti, perciò la compagnia di Gesù sono conosciuti come i Gesuiti, ok? Si chiamano anche i Gesuiti, anzi la gente li conosce meglio come i Gesuiti, ok? Pospongono al loro nome la sigla SI, ok? Che è questo che vedete sullo schermo. C'è una particolarità su questa sigla qua, che se il padre vi apre gli occhi riuscirete a vedere che qui c'è il sole, ed è quello che ho parlato nella lezione precedente, che questi adorano l'antico Dei Babilonese del sole, ok? Eccolo, vedete qui. E qui, se guardate bene, vedrete che ci sono tre chiodi, ok? Questi tre chiodi significano i chiodi che hanno usato per crucificare il vero figlio del Dio che si chiama Yahawa, ok? E il suo nome del figlio che è stato ucciso è Yahawa Shai, non Gesù, come ci fanno credere oggi, ok? E io vi faccio una domanda. Se avete un amico, per esempio, che viene ucciso con un AK-47, voi farete la colana di AK-47 per ricordarlo? Cosa farete? farete una statua della AK-47 per idorarlo? Io dico no. Questo è per farvi vedere che questi hanno avuto mano nella uccisione di quell'uomo nero, ok? Che si chiama Yahawa Shai, ok? La descrizione della sua carnagione e tutto si trova nel libro di Apocalisse, capitolo 1, mi sa, da versetto 13. Si trova anche nel libro di Daniele, capitolo 10, ok? E se andate a vedere la sua descrizione, saprete che era di origine negro, come si dice oggi. Era un negro, il figlio di Dio, ok? Perciò questa sigla loro, questo è il significato. Andiamo avanti. L'ordine fu fondato da Ignazio di Loyola, che con alcuni compagni a Parigi nel 1534 fece voto di predicare in Terra Santa, progetto abbandonato nel 1537 e riporsi agli ordini del Papa, ok? Avete visto? Questo è colui che ha fondato questo gruppo qua, i Gesuiti, si chiama Ignazio di Loyola, che poi andremo anche a toccare un po' sulla sua storia e vediamo, prendiamo due punti, ok? E di porsi agli ordini del Papa, perciò i Gesuiti sono agli ordini del Papa, ok? Il programma di Ignazio fu approvato da Papa Paolo III con la bolla Regimini Militantis Ecclesiastes, ok? Se andate a vedere, questi sono i militanti, ok? Il 27 settembre 1540, ok? E andiamo a vedere qui, c'è una bella storia sulla cronologia del Papa, che infatti non vi fanno sapere la vera cosa, ok? Se andate a vedere, se scrivete anche su Wikipedia qui, la cronologia dei Papa, vedrete che i primi Papa sono sconosciuti e non sono approvati, perché? Perché erano i Mori, i Mori erano coloro che hanno fondato il Vaticano, ok? I figli di Israele. Ecco perché due tezzi della casa di Israele verrà un distrutto, ok? Perché gli israeliti fanno peggio anche dei cattivi. Sono un popolo con il collo rigido. Una volta che conquistano, dimenticano del loro Dio, ok? E cominciano a seguire il Dio degli altri, ok? I figli di Israele hanno fondato il Vaticano e la religione, giusto per coprire gli occhi di tutti gli altri e di fare profitto, ok? Poi quando hanno perso il regno, diciamo, dai 15, da 1500 al 1600, quando hanno perso il regno, ok? I figli di Esau che hanno conquistato il regno hanno portato avanti fino al giorno d'oggi, ok? Ecco perché se andate sulla cronologia, i primi papà non ve li fanno mai vedere, ok? Vi dicono che non sono approvati l'acqua perché erano dei Mori, figli di Israele. Andiamo avanti. Questo gruppo, come vedete, è stato espulso da vari paesi europei nella seconda metà del diciottesimo secolo, 1800, ok? Nel 1800-1700, diciamo. L'ordine fu sospeso ed isolto da Papa Clemente e il quattordicesimo nel 1773, ok? Secondo voi perché? Perché questi erano uno strumento a sud, da parte che qui in Wikipedia non danno tutta la verità di cose. È tutto filtrato. Maggior parte dell'informazione su Wikipedia è filtrato. C'è il video anche dove colui che ha fondato questo sito qua in Wikipedia dice che in realtà ci sono delle forze che lo impedisce di dare informazioni giuste al 100%. Poi un giorno farò anche il video di chi sono i cattivi, ok? Yehawo B'Hashem, Yehawo Shai, volendo, ok? Quello che ho detto è il nome del padre, Yehawo B'Hashem, vuol dire nel nome, ok? B'Hashem Yehawo Shai, nel nome di Yehawo Shai. Yehawo Shai è il nome di suo figlio, non Gesù, ok? E questa lingua che ho appena parlato è ebraico antico. ebraica antica, ok? Andiamo avanti a leggere. I gesuiti osservano il voto di totale obbedienza al Papa e sono particolarmente impegnati nelle missioni e nell'educazione. Educazione di che? Educazione di cambiare la verità, di nascondere la verità, e di mandare la gente proprio alla perdizione, ok? In buio, assoluto. Ora ci fermiamo là e torniamo a leggere su colui che ha fondato questo cosiddetto Gesuiti, che si chiama Ignazio di Loyola. Eccoci qui, Ignazio di Loyola, questo dovrebbe essere l'immagine di colui che ha fondato i Gesuiti. E leggiamo, Ignazio di Loyola, in basco, Ignazio Lopez de Loyola, Loyola, 23 ottobre 1491 circa, questo dovrebbe essere la data della sua nascita, Roma, 31 luglio 1556, è stato un religioso spagnolo fondatore della Compagnia di Gesù, così chiamato Gesuiti, ok? Ricordatevi che la Compagnia di Gesù, ok? Sono detti Gesuiti, ok? Quindi abbiate in mente questa parola qui. E torniamo a leggere su Loyola. Fondatore della Compagnia di Gesù, ok? Nel 1622 fu proclamato santo da Papa Gregorio XV, ok? Se vi ricordate il video che ho fatto ieri, parlava del Papa XIII, che ha cambiato i tempi, il calendario e tutto. E lo ha fatto apposta per sballare i giorni, affinché i figli di Israele, che sono i veri Santi, non possono osservare il Shabbat, il Shabbat come comandato. E altre cose per farli adorare dei Dei Pagani, ok? Perciò per capire ancora meglio questa lezione, vi consiglio di andare a vedere quella precedente. Qui si legge, nel 1622 fu proclamato santo da Papa Gregorio XV. Perciò avete visto? Come conosciamo oggi, i Papa del Vaticano, sono loro che proclamano la gente santi, ok? E vi dico, fratelli, questi santi, queste cose, sono delle gran cavolate, sono delle gran bugie, ok? I Santi, adesso andremo a leggere sulle scritture, chi sono i veri Santi. Non ha a che fare con questa gente qua. Questa gente, la loro missione, è quella di portare la bugia e cose, ok? Ok? Bugia è tutto, ok? Ora, andiamo a leggere velocemente una scrittura qui, ok? Che si trova nel... Leggiamo prima il libro di Salmi, giusto per farci capire. Un attimo. Libro di Salmi 148, 148, il versetto 14, che dice, Egli ha rilato forza al suo popolo, motivo di lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, il popolo che gli sta vicino. Adesso andiamo a vedere adesso andiamo a vedere un'altra versione delle scritture, perché questi così chiamati gesuiti con il Vaticano hanno fatto un bel lavoro a girare le scritture italiane, soprattutto. vediamo da questa versione qui, la riveduta del 1994, e vediamo Popolo, motivo di lode ai suoi fedeli, ai suoi fedeli. Scusatemi un attimo, che controllo un attimo sulla mia scrittura, che è la King James, il re Giacomo del 1611, è 1600, quindi la mia scrittura è tra le più vecchie, ok? 48, avete visto qua la parola tutti i santi, i suoi santi, non fedeli, la parola è santi, adesso vediamo se riusciamo a vedere su un'altra ecco qui, avete visto? questo è la Diodati, è la versione Diodati del 1885 italiana, ok? Vedete? Ed ha alzato un corno al suo popolo, che è materia di lode a tutti i suoi santi, a figlioli di Israele, suo popolo prossimo, alleluia. Avete visto? il suo popolo prossimo, il suo popolo più vicino al cuore, ok? Perciò i santi, i veri santi sono i figli di Israele, ok? Non come abbiamo letto qui che il Papa sceglie chiunque vuole come i santi. Poi andremo anche a vedere più a profondo di questo, ma prima volevo tirarvi fuori un'altra scrittura, sempre nel libro di Salmi, e non vi sarebbe questa volta, il 147, ok? Nel versetto 19, Eli, scusatemi, versetto 19, Eli annunzia le sue parole a Giacobbe, ok? Da Giacobbe è venuto Israele, ok? Giacobbe è il progene e il padre di tutti gli israeliti, ok? Infatti, poi leggendo il libro di Genesi o adesso non mi sa, il suo nome è poi stato cambiato a Israele, ok? Eli annunzia le sue parole a Giacobbe 194, che dice, Eli fa conoscere la sua parola a Giacobbe, i suoi statuiti e i suoi decreti a Israele, Eli non agito così con tutte le nazioni e i suoi decreti esse non li conoscono, perciò coloro che conoscono i veri decreti del padre, l'unico popolo è Israele, ok? Non agito così con tutte le nazioni, ok? Per solidificare andiamo a leggere il libro di Isaia 40, 17 Libro di Isaia 40 il versetto 17 che è qui dice tutte le nazioni sono come nulla davanti a lui Eli le valuta meno che nulla una vanità avete visto? avete visto? Tutte le nazioni per lui è nulla conosce solamente Israele ok? Israele e il suo popolo come abbiamo letto nel libro di salmi qui e poi comunque le scritture si leggono così si leggono così un po' di qua un po' di là ora vi faccio vedere si trova nel libro di Isaia nel libro di Isaia 28 e 10 che dice anzi iniziamo dal versetto 9 che dice a chi vuol dare insegnamenti a chi vuol far capire la lezione a dei bambini appena diversati staccati dalle mammele poiché è un continuo dar precetto dopo precetto precetto dopo precetto regola dopo regola regola dopo regola un po' qui un po' là avete visto come stiamo facendo in questo momento vi sto dando precetto dopo precetto un po' qui un po' là così si capisce le scritture non si può leggere le scritture come altri libri e capire tutto subito bisogna leggere un po' qui e un po' lì comunque potete farlo senza lo spirito della verità che è lo spirito santo che nell'antica ebraica si chiama la ruca kodash ok non potete capire nulla ok questo messaggio infatti non è per tutti è solamente per gli eletti della casa di Israele e come si fa a sapere se uno è eletto è lo spirito che dice lo spirito ora torniamo a quello che stabbiamo leggendo abbiamo visto comunque che il Papa non ha dritto di proclamare nessuno come santo come ha fatto ok i santi che ha proclamato erano falsi e ha fatto questa cosa per mandare questi missionari per spargere la bugia ok la pura bugia e cambiare la storia della verità ok poi questa è tutta un'altra lezione da fare ok per farvi capire che questa gente che hanno mandato in giro il mondo sono andati solamente a cambiare la storia e spargere la bugia secondo voi secondo voi i veri apostoli di Yahweh Shai parlavano di amore parlavano di cavolate come parlano questi qua e sono stati tutti uccisi no perché parlavano della verità che andava contro coloro che governano ok ora voglio portarvi a una cosa diversa che tutti voi conoscete ok che sono illuminati ultimamente scrivo qua illuminati illuminati conoscete che illuminati ok andiamo sulla wikipedia e leggiamo dalla wikipedia ok illuminati sono un gruppo che governano il mondo anzi vi faccio vedere così illuminati che alla fine non sono proprio non sono proprio solo loro comunque è un gruppo ok assieme ai club Bilderberg ok come ho detto ieri nella lezione assieme anche a come si chiama le famiglie finanziarie che sono i Rothschild e i Rocafella ok la regina d'Inghilterra la sua famiglia che lei viene è un progene dal vero Dracula il bevitore di sangue lei sarebbe nipote di Dracula e sì tutto questo è tutta un'altra lezione per farvi vedere queste cose qua comunque sia volevo farvi vedere qualcosa molto importante su questa società segreta ok scrivo italiano ok qui società segreta tedesca nata in Bavaria nel diciottesimo secolo ok nel 1800 ok 1800 era diciamo l'anno boom dei figli di Esau era l'anno che hanno preso la piena piena conquista della terra diciamo ok gli illuminati conosciuti anche come illuminati di Bavaria o più precisamente ordine degli illuminati sono stati una società segreta nata in Bavaria nel diciottesimo secolo ok e sono conosciuti come l'occhio e vi ricorda qualcosa questo segno dietro ora scrivo velocemente qui Gesù no Gesù iti eh scusatemi questa cosa fa quello che vuole Gesù iti ok vi ricorda qualcosa avete visto qui che hanno più o meno gli stessi la stessa emblema questo rappresenta sempre il sole e l'oro non fanno altro tutta questa gente qua vedete qui anche adorano l'antica dei babilonesi del sole ok e ora torniamo dove eravamo torniamo dove eravamo avete visto che è la stessa emblema ma qui hanno l'occhio che vede tutto comunque se andate a fare più ricerche vedrete che questo occhio viene da un dè antico un dè egiziano che si chiama Horus ok scrivo qui Horus Horus ecco questo dè qua e questo dè qua vediamo Horus hai occhio di Horus avete visto questo occhio qua dice che questo occhio vede tutto sono dei pagani abomini che noi figli di Israele non dovremmo fare parte comunque vi dico che questo gruppo fanno parte di coloro che governano il mondo ok che governano il mondo e alla fine di questo video metterò un breve video del raggiuno dei illuminati ok e qui volevo farvi vedere qualcosa con lui che ha istituito questo viene istuita a Ignaostad Germania il primo maggio del 1777 da John Adam Weishampt ok come alternativa alla massoneria infatti sono conosciuti come i massoni massoneria adesso andiamo a vedere chi è questo Adam Weishampt ok ecco colui che ha fondato questo gruppo e alla fine lui è un figlio di Esau ok se andate a vedere sempre più sulla sua biografia vedrete che lui viene proprio dal lineaggio dell'Esa ok ma non andiamo troppo in fondo volevo puntarvi cose breve Adam Johan Adam Weishampt ok Ignaustad 6 febbraio 1748 Gotha 18 novembre 1830 questo è l'anno che è morto è stato un filosofo tedesco fondatore dell'origine dell'ordine degli illuminati quello che abbiamo letto prima ok ecco la sua biografia nel 1753 rimane orfano del padre George Weishampt e viene adottato dal padrino di battesimo di barone John Adam Igzat ok porta sempre al al cattolici al papala ok relatore dell'università di Ignaustad e membro della Privy Consil questo se andate a vedere potete fare queste cose da soli andate a vedere e capire cosa è questo capirete che sono sempre i gruppi segreti e non c'è nulla di segreto nella verità e nella luce sono segreti che seguono cose abomini ok nato e cresciuto a Ignaustad in Bavaria ottene il ruolo di professore di diritto canonico ma c'è pensatevi questo aveva il ruolo era un professore in diritto canonico se andate a vedere il diritto canonico vedrete che ha a che fare con le scritture ecco infatti hanno lottato sempre per togliere certi libri dalle scritture infatti avete visto prima che non tutte le versioni si corrispondono perché hanno cambiato troppo soprattutto nelle scritture italiane ok ecco perché per capire le scritture quello che facciamo noi della Great Mewstone andiamo sempre nelle radici delle parole sono sia nel greco o nell'ebraico e sì andando nelle radici di queste parole come erano scritte nella versione originale si capisce molto di più ok nel 1772 ok era il professore di diritto canonico ok sebbene fosse stato educato dai gesuiti ok ecco il punto che volevo portarvi ok questi sono coloro che il Vaticano il Papa rende e chiama santi ok avete visto gesuiti ok lui è stato educato dai gesuiti ok se andate sempre più giù a capire le cose cosa credono questi qua è proprio illuminati sono davvero una setta satanica vedete questo è quello che che adorano l'uccello scusatemi il gufo della conoscenza infatti questo gufo è nella scrittura nel secondo re mi sa vediamo molek 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 avete visto se scrivete molek vedrete che era pagano una roba proprio assurda facevano i riti satanici ok e non è neanche questo che volevo farvi vedere comunque l'oro fa parte di quello che fa parte di quello che adorano i molek ok spero di riuscire a trovarlo perciò io vi consiglio di andare a leggere tutto se no stare qua a fare questa lezione leggendo tutto ci metteremo troppo tempo e la gente si stufa quando vede video lunghi ok perciò consiglio a ognuno di voi che cerca la verità ok che non è alla fine molto importante i punti più importanti ve li ho tirato fuori comunque sappiate che questi sono coloro che comandano il mondo e sono coloro che il Papa il Vaticano chiama santi i veri santi sono come abbiamo letto gli israeliti ok adesso per concludere perché non voglio tenere questa lezione troppo lungo che volendo domani farò un'altra lezione riguardo i cattivi oggi ho parlato dei santi sempre tirando fuori chi sono i cattivi comunque per chiudere e per chiudere andremo a leggere dal libro di primi corinzi primi corinzi capitolo 6 ecco versetto 9 non sapete che gli ingiusti non ereditano il regno di Dio Yahweh non vi illudete né fornicatore né idolatri né adulteri né affemminati affemminati è sempre questa gente qua che promuovono come si chiama i i transessuali i gay e tutto questo che sono abominio davanti al padre creatore andatelo a leggere nel libro di levetico dove ci sono i comandamenti un uomo non deve avere rapporto con un altro uomo e le donne non devono avere altri rapporti con altre donne e un uomo non deve avere rapporto con una donna sposata ci sono tante ed è questo che dice che non sapete che gli ingiusti non ereditano il regno di Dio non vi illudete né fornicatori né idolatri né adulteri né effemminati né sodomiti né ladri né avari né ubriachi né oltraggiatori né rapinatori ereditano nel regno di Dio Yahweh ok e vi ho letto questo per dirvi che questi gli illuminati fanno questi riti satanici parte dei loro riti satanici è la cosa sodomita la bere sangue fare abomini l'uomo che dorme con l'uomo dona che dorme con dona e queste cose qua aprite gli occhi spero che questo messaggio vi è edificato e la lascio qui nel sacro nome del padre Yahweh ok nel nome di suo figlio Yahweh Shai e i miei saluti alla casa di Israele Shalom